5 motivi per scegliere il vetrocellulare Fonglass. Perché costituisce un sistema di coibentazione completo estate e inverno. Perché svolge funzioni multiple non legate esclusivamente alla coibentazione termica. Perché ha prestazioni uniche ed eccezionali contemporaneamente presenti in tutta la gamma prodotti. Perché opera sia nei settori edili che industriali, eliminando i ponti termici costruttivi anche in edifici adiabatici passivi. Ed infine perché con una service life pari a 100 anni, dichiarata sui nostri PD di tipo 3 specifici di prodotto, garantisce soluzioni sicure, sostenibili e destinate a durare nel tempo.